Capitatela! Capitatela! Avete udito cosa è dentro sua maestà? Saldratela la testa! Dentro, fuori, avanti, indietro, adesso ci risiamo Sto girando intorno, che no poi ci raggiiamo Mara, mara, torna, dove andiamo non si sa Togliatela la testa! Capitatela! Non puoi andar via senza aver preso almeno una tazza di te! Ma, ma non posso fermarmi ora? Ma insistiamo, devi prendere parte con noi alla testa! Togliatela la testa! Signor Brucalippo! Signor Brucalippo, cosa devo fare? Cosa? Essera tu? Eccola là! Non lasciatevelo scappare! Venga, guidatela! Oh! Sono ancora chiusa a chiave! Ma la regina! Bevo, devo uscire fuori! Oh, ma tu sei fuori! Cosa? Guarda tu stessa! Ma, quella sono io! E sto dormendo! Non lasciatevelo scappare! Tagliatela la testa! Alice, svegliati! Mi taglierò la testa! Dego, guidatela! Alice! 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 Vuoi essere così gentile di stare attenta e di ripetere la lezione? Oh! Il coccodrilletto nel fiume discese e a nuoto sorpresa di pesce un gruppetto! Alice! Ma cosa vai farneticando? Oh! Scusami! Ma vedi, il Brucalippo ha detto! Il Brucalippo? Oh! Per amore del cielo! Alice! Io... Oh! Beh! Andiamo! È l'ora del tempo! Oh! È il fantastico mondo di meraviglie! È il nome! Rivediamo i numeri vincenti di questa puntata validi fino alla prossima estrazione. Attenzione! I numeri estratti li trovate anche nelle vetrine Upim e su quotidiani alla pagina degli spettacoli. Correte alla Upim e agli affiliati Upim a prendere i premi e le nuove cartelle. Ogni venerdì fino al 5 gennaio una nuova estrazione. Buona fortuna!